La morte del giovane marinario inglese è venuta in peri alcune notti fa, non sembra aver fornito alcun insegnamento ai giovani appassionati di parkour, la nuova moda di arrampicarsi sui tetti per girare video mozzafiato. Lo dimostrano le immagini girate con il telefonino in spiaggia ad Arma di Taggia, ad esponenti del gruppo Le Cinque Stelle di Arma di Taggia, nelle quali si vedono dei ragazzini camminare pericolosamente sul ciglio del tetto dell'antica torre di avvestamento del XVI secolo che si trova al confine con Bussana. A un certo momento uno dei ragazzi si siede addirittura sul ciglio della fortezza con le gambe a penzoloni e sembra quasi che stia per cadere nel vuoto. Immagini terrificanti anche se per fortuna la tragedia è stata soltanto sfiorata. Secondo alcuni testimoni i giovani avrebbero anche lanciato forse soltanto fatto cadere delle pietre che fortunatamente non hanno colpito nessuno. Ora sono in molti a chiedere interventi urgenti per mettere in sicurezza l'area che oltretutto rappresenta un bene storico e impedirne l'accesso ma resta il fatto che complice anche la rete e i social si diffondono sempre più nei giovani comportamenti assurdi e giochi che spesso diventano letali.